Musica Bello a tutti ragazzi benvenuti sul mio canale, qui Alieto ci siamo in un nuovo video top Il precedente video su Pokemon Go, se non l'avete visto, clic qui in alto a destra E' andato veramente alla grande, in pochissimo tempo ha raggiunto subito i 70 like che avevo chiesto Ma ovviamente è un video su Pokemon Go e quindi tutti lo guardano, a differenza di questo che lo guarderanno in pochissimi Per questo motivo arriviamo a 50 like per questo video, per una prossima top Come avete letto dal titolo ragazzi e come avete votato voi sul gruppo di Telegram Telegram? Che cos'è Telegram? Come avete votato voi sullo straw poll che avevo pubblicato sul canale di Telegram Se non siete iscritti al canale di Telegram, link in descrizione Avete scelto per la maggior parte, avete votato per i 5 video più odiati del web Ossia i 5 video con più dislike che ovviamente l'orologio deve suonare proprio in questo momento Detto questo ragazzi, iniziamo subito con il video Al quinto posto troviamo Miley Cyrus che dopo essere passata da Hannah Montana La ragazzina in difesa e tranquilla della Disney Channel è diventata quello che è oggi Ossia una ragazza abbastanza ribelle con un suo stile molto particolare e con i suoi gusti molto stravaganti E il suo video Wrecking Ball ha veramente tantissimi dislike Per la precisione, lo vado a leggere perché se no non mi li ricordo tutti Sono 1.319.410 dislike Al quarto posto abbiamo una canzone che tutti abbiamo ballato Tutti abbiamo ascoltato per ore ed ore ed ore Ed è anche la canzone con più visualizzazioni al momento su YouTube Veramente ragazzi ha una cifra spropositata di visualizzazioni e anche di like per fortuna Ma come sempre ci sono i dislike anche qui su Gum Gum Style La canzone di Psy che l'ha fatto diventare famosissimo in tutto il mondo e non solo nella sua piccola Corea Gum Gum Style però ha anch'essa molti molti dislike Per la precisione 1.174.473 dislike Al terzo posto abbiamo una ragazza che non avevo mai sentito in vita mia fino a questo momento Fino a che non sono andato a fare questa top Ossia Rebecca Black Con la sua canzone Friday ha preso circa 3 volte i dislike Quanti sono i like Ho ascoltato la canzone per circa 3 quarti della sua durata E la sua vocetta così stridola mi ha leggermente distrutto entrambi i timpani Come se fosse scoppiata una bomba atomica a 2 centimetri da me Questa ragazza ha ricevuto la bellezza di 2.291.324 dislike Sono veramente tantissimi tantissimi dislike Al secondo posto abbiamo un video che è uscito poco tempo fa Ossia il nuovo trailer di nuovo COD Ma ha ricevuto veramente tantissimi dislike da tutta la community di COD E penso che gli sviluppatori si siano resi conto che hanno fatto qualche piccolo sbaglio in quel gioco Perché non è piaciuta la bellezza di 3.192.215 persone Al primo posto ragazzi abbiamo il nostro carissimo affidato amico Che ci accompagna ormai da tantissimo tempo con le sue bravate E la sua musica che diventa sempre più famosa e meno orecchiavile più il tempo passa Se all'inizio quando ero alle medie con questa canzone E adesso no Stiamo parlando di Justin Bieber con Baby È stato il primo videoclip di Justin Bieber Il primo che l'ha fatto conoscere a livello mondiale Ed è anche il video con più visualizzazioni attualmente di Justin Bieber E possiamo capire quanto il suo successo sia andato scendendo Se questo è il suo primo video ed è quello che ha più visualizzazioni E non è piaciuto a moltissime persone Infatti i dislike equivalgono a 6.665.730 Bene ragazzi detto questo, questo brevissimo video termina qui Io come sempre vi ringrazio tantissimo per la visione Vi ricordo di lasciare un like, un commento, di condividere Se non siete ancora iscritti iscrivetevi Noi come sempre ci vediamo in un prossimo video Ciao Ciao